Le mascherine a misura di bambino. È importante che i nostri piccoli pazienti in ospedale da oggi possano indossare una mascherina fatta appositamente per loro perché sappiamo che è la prima misura di protezione e di prevenzione. E noi in questo momento stiamo non soltanto curando i pochi, per fortuna, bambini positivi e ancora meno quelli che si ammalano di coronavirus, ma certamente noi vogliamo proteggere tutti gli altri e quindi garantire tutti gli ospedali pediatrici sicuri dall'infezione per poter curare tutti i bambini del nostro paese.